Io sono Alba Lastorina, lavoro al CNR, mi occupo di comunicazione della scienza e quello che è successo oggi si chiama SeaFuturingTours è stato un laboratorio di immaginazione del futuro in cui hanno partecipato degli studenti di alcune scuole di Napoli e l'idea era quella di farli camminare attraverso alcuni percorsi itinerari del litorale di Bagnoli per ragionare un poco sul passato, sul presente e sul possibile futuro. Questa iniziativa apre e chiude un'iniziativa di una rete che si chiama Long Term Ecological Research, cioè ricerca ecologica di lungo termine che appunto vuole far conoscere le attività che svolge proprio in ambito ecologico. Quindi questa giornata di oggi apre i cammini che sono appunto questa iniziativa attraverso la rete d'Eter si muove e va nei territori dove studia, quindi monitora i vari aspetti ambientali e incontra cittadini, studenti, insomma diversi soggetti che vivono nel territorio. Questa iniziativa inizia a Bagnoli, a Napoli, finirà a Taranto e questa settimana succedono, la stessa cosa verrà fatta a Taranto con studenti ovviamente di Taranto e la stessa cosa diciamo, durante questa settimana accadono cose, cosa accade? C'è l'incontro appunto dei ricercatori che fanno parte di questa rete LTR di ricerche ecologiche a lungo termine con il pubblico per comunicare il senso, l'importanza di questo tipo di ricerche che permettono di conoscere l'ambiente nel tempo, nel lungo termine e quindi di seguirne l'evoluzione e le dinamiche sia dell'ambiente in quanto tale, in quanto condizioni ambientali e di tutti gli organismi che vivono in questi ambienti e cercando di sensibilizzare il pubblico attraverso la conoscenza di questi diversi habitat, di questi ambienti e attraverso appunto la conoscenza dell'impatto che l'uomo ha, dell'impatto in genere negativo che ha su questi ambienti. e la modalità è proprio il cammino, il senso di queste iniziative è il camminare lento a piedi o in bicicletta, in questo caso si tratta appunto di un tour ciclistico, che permette di sentire meglio, di entrare meglio in contatto con l'ambiente che circonda, che ci circonda e con le sue caratteristiche e ci saranno delle tappe in cui appunto questi ciclisti che lavorano nel campo incontrano il pubblico e cercheranno di comunicare e di interagire appunto su questi problemi ecologici con il pubblico di vario tipo insomma. Grazie.